Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Non perdete tempo, iscrivetevi al nostro canale e attivate le notifiche. Lino Banfi ha raccontato della sua profonda amicizia con Papa Francesco, rivelando come questa relazione si è cresciuta nel tempo. In occasione del suo compleanno, Papa Francesco gli ha inviato un messaggio affettuoso, definendolo il nonno d'Italia, a cui Banfi ha risposto scherzando che stava diventando bisnonno d'Europa per via della prossima nascita della sua nipote. Questa amicizia, nata dalla stima reciproca, è un punto di forza per Banfi, che ha condiviso momenti intimi e toccanti della sua vita personale. L'attore ha parlato di come Papa Francesco gli abbia offerto conforto e supporto morale, specialmente durante il periodo in cui sua figlia Rosanna stava combattendo contro il cancro al seno. Banfi ha raccontato di aver informato il pubblico della malattia di sua figlia durante un'intervista alla vita indiretta, con l'intenzione di sensibilizzare e dare forza a chiunque stia affrontando situazioni simili. Ha descritto il Papa come una figura rassicurante e amorevole, capace di infondere speranza anche nei momenti più bui. Inoltre, Banfi ha sottolineato come questa amicizia speciale con il Papa abbia avuto un impatto significativo sulla sua vita e sulla sua famiglia, rendendo i legami personali ancora più forti e significativi.